Domenico Cirulli è alla sua prima esperienza da Presidente qui a Lanciano Fiera, si comincia? Si comincia, ha detto proprio bene, la mia primissima esperienza è una grande emozione, è una festa ma è anche un giorno per ricordare tante persone e io vorrei ricordare i miei predecessori, vorrei ricordare anche tutto il lavoro svolto da tutto il consorzio. Noi faremo la nostra parte e spero che tutti, tutti insieme, si riesca meglio a sostenere questa fiera e a promuoverla nel miglior modo possibile. Negli anni 90 Filippo Paolini approdava alla fiera di Lanciano, che cosa è cambiato da allora? La fiera di cultura io prima mentre parlavo veniva una sorta di flashback e cercavo di ricordare molto del passato, in realtà dal punto di vista espositivo non è cambiato niente, perché quando parlo di fidelizzazione degli espositori, grazie a Dio sono sempre gli stessi, sono persone che sono 50 anni che vengono qui, vuol dire che loro ritengono che questa struttura, in particolare la fiera di cultura, sia per loro una grande rizzichezza, una risorsa. Sindaco, oggi però spicca l'assenza dell'assessore Febbo, una nota assonata? Non so, penso che abbia avuto degli impegni più importanti, sono momenti molto delicati per la campagna elettorale, Mauro è sempre molto vicino al mondo agricolo, specialmente adesso che riveste questo ruolo da assessore agricoltura, ci saranno altre occasioni per stare insieme con lui. Come sempre molto importante è la parte convennistica nella fiera di Lanciano, ce ne parla Ciro Pasquini, coordinatore dell'ente fiera. In questi giorni avremo modo di parlare di quale sarà il futuro dell'agricoltura in collaborazione con la CIA, parleremo del mondo oleario, parleremo del settore vitivinicolo. C'è un'azienda che è nata in occasione della fiera dell'agricoltura, quindi l'espositore più giovane che è nato proprio qui dentro e per noi questo è molto importante.